Grazie Ispra per questo appuntamento che ormai per me è diventato un appuntamento diciamo dell'agenda di ogni anno. Certo arrivare in coda sono giornate un po' complicate per tutti però ci siamo. Quindi grazie per questo invito, grazie a tutto lo staff di Ispra che lavora su questo documento importante e che ogni anno migliora la performance. Come ha richiamato il direttore Bratti quest'anno 7 comuni in più rispetto al 2017 quindi 120 comuni, 14 aree metropolitane. E poi quest'anno è importante, è stato richiamato all'inizio perché poi l'intervento che seguirà è quello di Bortoni, il tema anche del sistema diciamo agenziale che partecipa in modo coordinato alla stesura di questo documento importante ed è diciamo la prima occasione in cui l'attuazione della 132 la ritroviamo anche in un documento come questo. I dati sono stati ampiamente commentati quindi non mi tratterrò diciamo ulteriormente. Quello che richiamo è che tra le notazioni che vengono date si registra a livello delle città metropolitane una perdita di servizi ecosistemici dovuti al consumo di suolo che tra il 2012 e il 2017 è stata valutata tra i 348 e i 443 milioni di euro. Ora il tema dei servizi ecosistemici oggi è un tema centrale, i servizi diciamo che la natura offre complessivamente e globalmente intesa. Su questo c'è ancora una parte diciamo che deve essere normata che è la delega sul pagamento dei servizi ecosistemici. Penso che questo sia un tassello importante non perché il pagamento dei servizi ecosistemici è una tassa cioè un prelievo forzoso di ricchezza ma perché è una risorsa di scopo. Diciamo si è pensato alcuni live alcuni diciamo ci sono state già delle prime sperimentazioni nelle aree protette a forme di accordi volontari dove diciamo il pagamento del servizio ecosistemici serve a una responsabilizzazione per dire se la natura ti dà questo servizio devi riconoscerlo e devi dare a segnare una risorsa anche minima e la diciamo la somma complessiva di queste risorse deve essere destinata nei bilanci degli enti locali alla manutenzione a tutto quello che serve a ripristino. Questo penso che sia un tassello importante che nella precedente legislatura questa delega era attuata nella riforma della 394 poi la riforma della legge quadro sulle aree protette non è andata a buon fine e conseguentemente anche questa parte non è stata attuata. Poi voglio fare un piccolo aggancio al rapporto sul capitale naturale a cui Ispra contribuisce attraverso i suoi uffici che partecipano nel gruppo degli esperti perché diciamo il collegato ambientale la legge 221 del 2015 assegna al Ministero dell'Ambiente diciamo questo compito di coordinamento di un comitato che praticamente è formato quasi dall'intero Consiglio dei Ministri e poi c'è un gruppo di esperti tra cui appunto anche Ispra e questo siamo abbiamo fatto due rapporti stiamo lavorando al terzo diciamo è in stretto collegamento con tante delle diciamo dei valori delle conoscenze che sono riportate nel vostro rapporto ambientale e mi piace molto che nel rapporto di quest'anno viene richiamata l'attenzione sui settori ecoregionali cioè le regioni assemblate per ecoregioni e vengono fuori una serie di valutazioni che qui adesso per brevità del tempo a disposizione non enuncerò però questo includere nel rapporto ambientale la necessità cioè evidenziare quali sono le esigenze le necessità di miglioramento per ecoregioni ci aiuta a mettere in collegamento i due documenti che poi alla fine hanno come obiettivo comune quello di creare un valore e un dibattito per stimolare la produzione normativa su una serie di settori perché quando parliamo di consumo di suolo oltre a richiamare sempre il tema che era urgente promuovere questa legge eccetera ci porta anche a un ragionamento che accennava prima il direttore Bratti che talvolta il consumo di suolo è anche derivato da scelte di assetto del territorio che non dipendono da programmazioni recenti magari si riportano a piani a questioni precedenti che riconoscono un carico edilizio eccetera che magari non è stato aggiornato nel tempo e così via quindi probabilmente il tema diciamo della necessità della legge sul consumo edilizio sul consumo del suolo va abbinata anche ad un'altra componente che viene espressa tra i contenuti del rapporto sul capitale umano e sul capitale naturale cioè dire quello di avere un'analisi ante e post diciamo intervento normativo per ogni intervento normativo in grado di valutare quant'è l'impatto sul capitale naturale che gli interventi normativi definiscono questo ci porterebbe a fare un grande passo avanti perché l'impatto sulle risorse naturali non viene mai appieno valutato e anche un altro aspetto quella di un'armonizzazione dei conti cioè quanto si spende per il ripristino è una misura ad oggi non chiara perché noi dal punto di vista della contabilità ambientale abbiamo un sistema di riclassificazione della spesa attraverso dei conti satelliti che però chiaramente aggregano voci diverse e non hanno non sono mirate diciamo a definire in un sistema di conti consolidato che non vede solo lo stato ma anche le regioni i comuni eccetera quant'è effettivamente la parte mirata al ripristino di una serie di valori e questo l'abbiamo in tutte le matrici ambientali non solo sul tema diciamo delle aree protette degli habitat eccetera ma su tutte le matrici ambientali quindi ancora una volta il rapporto è uno spunto un'ultima questione voglio diciamo rinnovare e che ha diciamo accennato a telli che il tema del verde pubblico sul verde pubblico più volte ci siamo incontrati abbiamo discusso cioè il discorso di quanto il verde pubblico abbia un valore poliedrico aggregazione sociale sicurezza miglioramento della qualità dell'aria miglioramento del paesaggio miglioramento della vivibilità e d'altra parte non possiamo dimenticare che uno dei gol dell'agenda venti trenta è proprio dedicato alle città l'obiettivo undice tra i target richiama la necessità di renderle queste più vivibili attraverso il miglioramento del verde urbano eccetera infatti mi piace molto che anche quest'anno nel rapporto ispra parla di città diffusa come paesaggio caratteristico di vaste aree del territorio nazionale e le pone in contrasto con i piccoli centri di montagna di colline eccetera tutto questo si lega anche a quella matrice importante che è stata accennata prima da Grimaldi che è la valorizzazione del turismo sostenibile ma capite che sono matrici perché sono flussi che dovrebbero essere governati e non subiti probabilmente strumenti come questo rapporto dovrebbero indurre ad una riflessione rispetto a politiche di sistema che devono essere coordinate tra più amministrazioni e tra più centri di amministrazione cioè non solo l'amministrazione centrale che oggi ha spostato il turismo sul ministero delle politiche agricole adesso si organizzeremo si organizzeranno e ci riadatteremo a questo cambiamento perché anche noi come aree diciamo protette lavoriamo sul tema del turismo sostenibile ma anche ispra ha molti dati che possono essere utili quindi questa è anche una matrice su cui si deve lavorare con un finale diciamo di 30 secondi rafforzare la consapevolezza dell'importanza del verde urbano come produttore di servizi ecosistemici come serbatoio di biodiversità e anche un modo di promuovere un'integrazione tra diciamo la componente che è legata al verde pubblico rispetto alla pianificazione e torna il tema come per il consumo di suolo diciamo che riguarda sia la pianificazione settoriale sia anche in un concetto più ampio perché attraverso diciamo scelte che riguardano più matrici dalla sicurezza alla fruibilità alla cultura eccetera si può cercare di migliorare un contesto che se non si fa una riflessione di questo tipo la vivibilità nelle città rischia di essere veramente un tema assai spigoloso proprio per i dati che ispra ci ha consegnato vi ringrazio molto della cortese ringrazio la dottoressa giarrattano no no va bene ringrazio ovviamente avete dato come direzione generale degli spunti che io credo siano molto interessanti su cui dovremmo lavorare anche tutto il tema dell'accountability legato ai servizi ecosistemici credo che sia un tema molto moderno ma anche molto interessante di cui magari su cui magari fare una riflessione grazie anche per aver ricordato perché questo io ci tengo in maniera particolare pur essendo direttore di ispra noi siamo in questa fase e do la parola Beppe Bortone siamo in una fase di ricostituzione cioè stiamo dando gambe alla legge 132 non vi sfugge è un'avventura complessa soprattutto per il sistema di governance che c'è però diciamo che e fra un po' metteremo credo abbiamo stiamo raccogliendo dei dati del lavoro fatto mi sembra che siamo sulla strada assolutamente giusta e il rapporto con il ministero per noi è assolutamente fondamentale sempre di più nell'ottica non tanto di ispra io ripeto sono direttore di ispra quindi ma quanto nell'ottica veramente della costruzione del sistema perché credo che poi anche per il ministero le direzioni generali avere un contributo allargato a 10.000 operatori nel territorio arrivare in maniera capillare sul territorio possa essere un valore aggiunto importantissimo detto questo e questo è anche al di là della collaborazione che sempre abbiamo avuto con le agenzie con Arpa Emilia Romagna su tanti temi do la parola appunto al direttore di Arpa E cioè di Giuseppe Bortone prego Grazie a tutti